Matteo rimane un nostro punto di riferimento, una persona che ha condiviso con noi un percorso, un progetto politico di rilancio e di sviluppo di questo Paese. Ragioni di cuore dettate dall'opportunità di lavoro che in questo momento la sua ragazza ha avuto modo di trovare che sta sperimentando a Milano e ragioni di rientro lavorativo. Ricordo a tutti che Matteo è di ruolo, è dipendente pubblico di ruolo di un ente pubblico a Milano. Lo inducono, lo hanno indotto a prendersi un momento di riflessione e aspettiamo che si arrivi all'esito di questo momento di riflessione per poi assumere con tutta tranquillità e con la condivisione dello stesso Matteo i provvedimenti più opportuni. Spero che nel suo futuro ci possa essere un ritorno a Santo Stefano perché credo che l'apporto che lui ha dato a questa comunità sia stato un apporto importante e significativo e soprattutto spero di poterlo nuovamente riavere accanto perché nei confronti di Matteo, sia io che la Giunta e il Consiglio Comunale, nutriamo rapporti di affetto, di stima che vanno oltre il normale e banale rapporto politico.